...per essere vero. Gli iode nel canyon. Tu li hai mai sentiti? No. Tu l'hai mai fatto quello? Beh, per la verità no. Ma lo fanno veramente quando li fotografano? Vedi, Medos, nella vita ci sono cose che tu nemmeno te le immagini. Conoscevo una puttana, ovviamente, che aveva un occhio di vetro. Ah. Se lo levava. E strizzava l'occhio alla gente per un dollaro. Ah, sì?